I tuoi capitani coraggiosi, vediamo un po', c'è chi piange? Tra cui c'è Corrado Passera. C'è chi piange per la manovra del governo Monti, ma c'è anche chi ritrova il sorriso, le banche. Perché? Perché il decreto di Monti e di Corrado Passera, che ha lasciato banca intesa per diventare superministro, comporta almeno tre benefici per le banche. Perché? Guardiamo ad esempio quello che è stato più citato, cioè la riduzione a 1000 euro del tetto per il pagamento in contanti. Prima era di 2500 euro. Questa misura dovrebbe servire a ridurre i pagamenti in nero e quindi l'evasione fiscale, vedremo. Cominciamo dal vantaggio più piccolo, più commissioni per le banche. La riduzione del tetto a 1000 euro farà aumentare, si stima, di circa il 30% i pagamenti senza denaro, quindi con bonifici, assegni, carte di credito, carte prepagate. Questo, siccome le banche trattengono una commissione, farà aumentare i ricavi e anche gli utili delle banche. Di quanto? Non ci sono dati precisi, neanche l'Avi, l'associazione bancaria li ha comunicati. Poi poca roba. Poca roba, si dice. Il governo però ha alzato i bolli sui depositi di titoli e invece sulle commissioni bancarie ha solo rivolto un generico appello, un auspicio alle banche a ridurle. Diciamo, Monti si è affidato alla benevolenza dei banchieri, dei suoi amici. Stiamo tranquilli. Per le grandi banche forse 10 milioni di euro in più di utili potranno fare unicredito, banca intesa ogni anno. Poi c'è un vantaggio più consistente, sempre per le banche, deriva dalla riduzione dei prelievi in contante. Perché? Perché le banche hanno un costo dai prelievi, perché pagano di più il personale allo sportello. Pensate che qualche mese fa alcune banche avevano persino introdotto una tassa per chi ritirava i propri soldi allo sportello. Con l'aumento dei pagamenti elettronici le banche quindi avranno bisogno di dare meno, ci saranno meno prelievi di contante. Si stima che quindi ci sarà meno bisogno di cassieri. Migliaia di cassieri diventeranno dei potenziali esuberi. Sarà difficile che le banche possano prepensionarli se il governo, il governo anche dei banchieri, sta alzando l'età pensionabile. Tuttavia uno dei banchieri più conosciuti, non faccio il nome, ci ha detto che se le banche riuscissero a smaltire o comunque a ridurre il personale per questi cassieri in esubero, risparmierebbero tutti insieme fino a un miliardo di euro. Una volta sola, ma un miliardo di euro è parecchio. Adesso però viene il bello. La settimana scorsa il presidente della Consob, Vegas, aveva detto in un'intervista a Repubblica c'è un allarme banche, non circola più denaro. Le banche sono senza soldi e non solo non fanno più credito alle imprese, ma non si prestano neppure i soldi tra di loro. Insomma, i banchieri non si fidano degli altri banchieri perché hanno paura che falliscano. Allora, cosa ha fatto Monti insieme a Passera? Ha introdotto la garanzia dello Stato sulle passività delle banche. Cosa sono? Sono le obbligazioni, i bond, che le banche emettono per finanziarsi. E in più ci sarà anche una garanzia del tesoro dello Stato sui prestiti che la Banca d'Italia farà alle banche italiane. E questo pesa molto. Se poi queste banche quindi non fossero in grado di restituire, di rimborsare questi bond, queste obbligazioni, sarà lo Stato a pagare. Ma con quali soldi? Con i soldi nostri, i soldi dei contribuenti che pagano le tasse e che con questa manovra pagheranno ancora più tasse. E infatti il decreto stanzia proprio per questa garanzia una somma, un onere stimato, 200 milioni di euro all'anno per 5 anni. Quindi in tutto un miliardo di euro. E l'anno prossimo scadono 137 miliardi di bond bancari. Prepariamoci dunque a vedere uno spettacolo. Allora, è solo una coincidenza che nel governo Monti, che ha preso anche questa misura, ci sia una folta pattuglia di ex banchieri. Oltre a Corrado Passera, che fino a tre settimane fa era il capo di Intesa San Paolo, ci sono altri due ministri. Elsa Fornero, che era la vicepresidente del consiglio di sorveglianza della stessa banca. Piero Gnudi, ministro del turismo, che era nel consiglio di Unicredit. E poi c'è Mario Ciaccia, che fa il viceministro, che era un grande manager di banca intesa e adesso fa il vicepassera. Monti chiama il suo decreto Salva Italia. Di sicuro è anche un decreto Salva Banche.